Luca Tassi nasce questa azienda da quanti anni? Eurodecor Luca? Da dieci anni e sei insieme ad altri collaboratori? Altri collaboratori che stanno anche da dentro, geometri e architetti. E fanno soprattutto pareti e contro... pareti di gatto gesso, contro soffitti, sistemi di costruzione e così. Poi isolamento anche antifuoco, queste cose qui le fate tutte agustici. E quindi vi avvalete anche da uno staff di architetti? Sì, specializzati nel settore. Certo. Avrà anche gli anni.